Con questo video che vediamo di sistemare l'inquadratura è per rispondere a Molly Molly che mi segue su YouTube e che ha fatto un video su capire come si fa ad attrarre con la mente è possibile o no attrarre con la mente le persone quindi attrarle a distanza io ho fatto un video dove parlavo proprio di queste metodiche e di queste possibilità diciamo perché attrarre con la mente è comunque una possibilità che abbiamo e che dobbiamo imparare a sfruttare ecco l'inquadratura l'abbiamo sistemata finalmente l'inquadratura è sistemata è possibile quindi buonasera Dolly buonasera Simona ciao Massimo che succede? no è l'inquadratura vedete bene adesso lo vedi bene Simona? lo senti bene? Tutto a posto? riesci a vederlo e sentirlo? buonasera Maria Paola vedi che la tosse è migliorata oh l'importante è che lo vedi ma soprattutto che lo senti altrimenti è un problema Simona Viviana ciao a tutti anche a Viviana Silvia B allora e attrarre con la mente quindi cerchiamo di attrarre con la mente gas gas come facciamo ad attrarre con la mente? questo per rispondere quali sono i presupposti dell'attrarre con la mente una certa persona e poi come diceva nella sua come diceva nel suo video Molly diceva ma non si va a inficiare il karma qualora fosse possibile attrarre a distanza ma in realtà non si va a inficiare il karma perché semmai vai a inficiare il tuo di karma non quello dell'altra persona visto che ci sono infinite possibilità e quindi come dire noi dobbiamo entrare uscire dall'ottica del multiverso dell'universo entrare nell'ottica del multiverso tutto quello che sperimentiamo accade perché possiamo sperimentarlo quindi perché ci sono ci sono da qualche parte le cause le condizioni affinché noi possiamo sperimentarlo e quell'altra persona possa sperimentarlo quindi non focalizziamoci sul tanto la nostra abilità sta nel creare le condizioni perché se non ci sono cause creare le condizioni per fare un esempio cosa significa? significa che se io semino zucchine come dire nasceranno zucchine se creerò le condizioni affinché nascano le zucchine cioè se innaffio se avro il terreno se lo concime e tutto solo in quel caso lì nasceranno le zucchine cioè devo avere i semi di zucchina seminati poi dopo creare le condizioni innaffiare, concimare eccetera ma se non pianto zucchine pianto cavoli o pianto mele o pianto qualcos'altro le zucchine non nasceranno quindi cara molli la zucchina te la prendi soltanto se la semini altrimenti ti prendi qualcos'altro non ti prendi la zucchina so che tu preferisci la zucchina però niente zucchina niente e allora attraire con la mente significa essenzialmente quello significa creare le condizioni non le condizioni fisiche ma le condizioni energetiche la condizione energetica affinché un qualcosa accada è che ci deve essere un'intenzione consapevole o inconsapevole ci deve essere un'intenzione quando due persone sono in entanglement le condizioni avvengono naturalmente direi naturalmente cosa significa? significa che in modo naturale si creano degli eventi delle situazioni in cui le persone che ne so si conoscono si frequentano c'è un ritorno quindi noi con la nostra mente possiamo il contraddittorio deve esserci in che senso il contraddittorio deve esserci ciao Roby 1000 o 3000 cosa vuol dire il contraddittorio ci deve essere? in quale caso? Roby 9 il contraddittorio ci deve essere a 9 vuol dire che tu non sei d'accordo? adesso non stavo leggendo devi portare degli esempi scientifici allora rispondiamo anche a Roby 30.000 gli esempi scientifici non servono perché guarda io sono lavorato in ingegneria per dirti quindi no no ecco ecco devi dimostrare ciò che dici allora quindi ti parlo da uno che ha una mentalità iper logica e iper razionale la logica e la razionalità ecco è finita sono dal vivo non so se vedete io non vedo una mazza eccolo qua è andata via è andata via il collegamento dicevo il metodo scientifico dovrebbe essere online di nuovo è il metodo galileiano quindi il metodo galileiano significa che faccio una prova e questa prova è ripetibile un milione di volte centomila volte dovrei essere online adesso quindi il metodo scientifico non è applicabile neanche alla fisica quantistica il concetto di multiverso è un concetto quantistico non è un concetto dovrebbe essere on Roby il metodo quantistico non è un cioè la fisica quantistica non è un come dire no no non è colpa tua Roby va davanti dicevo il metodo la fisica quantistica non risponde alle verifiche galileiane perché non esiste causa-effetto cioè anzi alle volte la causa è precedente all'effetto proprio in quantistica ci sono delle particelle che sembrano provenire dal passato cosa vuol dire che sono una causa che è prima dell'effetto che è dopo l'effetto cioè l'effetto precede la causa quindi viene stravolto completamente il modo di pensare il modo di ragionare dalla quantistica impore dal principio di indeterminazione di Heisenberg e dal colasso della funzione di onda di Schrödinger quindi sono tutte diciamo il metodo scientifico non è applicabile diciamo il classico quello galileiano non è applicabile il che non vuol dire che le funzioni le cose non funzionano stavo dicendo Roby che il metodo scientifico come lo intendono normalmente le persone il metodo galileiano della ripetibilità non è applicabile neanche alla scienza stessa non è applicabile neanche alla fisica quantistica ad esempio era applicabile alla meccanica newtoniana ma la fisica quantistica non è applicabile non è applicabile perché dicevo ci sono situazioni in cui l'effetto viene prima della causa particelle che provengono dal passato ad esempio sembrano provenire dal passato quindi non c'è una dimostrabilità scientifica col metodo classico noi qui con l'energia lavoriamo come dire in modo molto diverso rispetto alla riproducibilità nel momento in cui tu percepisci un'altra configurazione di universo rispetto a quelle in cui ti trovavi prima manco ti accorgi che sei passato in un'altra configurazione non è che dici no adesso vado a fare un giro vado perché sono come dire universi che sono tutti allineati quindi noi in realtà passiamo da una configurazione all'altra di universo sempre costantemente guarda per dato una risposta che cerco di datela un po' più complessa veramente diventa un po' complicato c'è un libro molto interessante di Barber che è la fine del tempo dove vengono spiegate tutte le leggi della fisica eliminando la variabile del tempo e introducendo il concetto di ecco il problema ce ne sono infiniti gli universi alcuni come dire li sperimentiamo perché come dire perché sottendono alle sottendono come dire riusciamo ad avere le condizioni di accessibilità in altri casi non abbiamo le condizioni di accessibilità se io ti faccio vedere questo tanto per spiegare per dire ti faccio vedere questa cosa qua che è una sigaretta elettronica no allora questa soddisfa le funzioni di sigaretta elettronica però potrebbe soddisfare anche altre funzioni io con questa cosa qua ad esempio che ne so potrei usarlo come fermacarte soddisfa le condizioni di fermacarte potrei usarlo in altri mille modi potrei usarlo che ne so per grattarmi un orecchio funziona anche per grattarmi l'orecchio potrei usarlo per battere da qualche parte perché ne so funziona pure e soddisfa sempre le condizioni perché l'ottesia cosa angelica max per cortesia per cortesia cosa dice per cortesia e non dice che cosa cortesia manca di cortesia a chi voglio cambiare l'universo ma che cavolo angelica dice per cortesia quindi tanto per rispondere per rispondere esatto puoi anche usarlo angelica ha già visto un'altra funzione su come potrebbe utilizzare questo diciamo ma probabilmente funziona anche per quello che pensa angelica diciamo anche per quello che pensa angelica potrebbe funzionare ma non 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 soddisfa le condizioni di essere una barretta di cioccolato che posso mangiarmi se io questa qua la uso come barretta di cioccolato e provo a mangiarmela mi spacchi i denti perché questo non riesce a soddisfare le condizioni vuol dire che è un universo troppo lontano ci sono universi noi possiamo sperimentare cose che possiamo sperimentare altre che sono talmente lontane da noi che non possiamo riuscire a sperimentare quindi trasformare questa è una barretta di cioccolato è qualcosa che è troppo lontano da me ok io posso essere tutto ma in questo momento in questa particolare condizione più fai delle scelte diciamo così e più elimini delle possibilità quindi gli universi sono infiniti diciamo così io credo che noi ne possiamo io credo che noi ne possiamo sperimentare una quantità finita di universi quindi creare creare le condizioni significa andare a modificare detti in altri termini che significa che se tu vuoi attrare una persona se ci sono potenzialmente le condizioni per attrarla puoi andare a sperimentare quella configurazione dell'universo in cui quella persona l'attrai se è una cosa talmente lontana che è come far diventare questa roba qua una barretta di cioccolato puoi mettere tutte le intenzioni che vuoi ma non riuscirai tu a sperimentare quell'universo non riuscirai a sperimentarlo neanche se non ci sono i semi puoi attrarre quello che vuoi attrarre danaro tutto è possibile cioè il fatto è che quando ti capitano le cose tu credi che non sia andato così in realtà è andato ben così tu hai attratto qualcosa noi crediamo di sperimentare il mondo in realtà noi attraiamo delle cose noi quello che sperimentiamo è perché l'abbiamo attratto tu attrai quello che manifesti fondamentalmente attrai quello che sei sto parlando di universi paralleli universi paralleli sono infiniti universi noi siamo costantemente immersi in universi paralleli ogni istante del nostro tempo potremmo definire una cosa carina e potremmo definire il tempo come un modo per attraversare universi paralleli non come un qualcosa che scorra all'interno di un universo questo si capisce bene ciao veronica molto piacere ma the secret secondo me delle lacune si capisce bene se ad esempio si legge la fine del tempo dove ti spiega il concetto di capsula temporale che è un concetto fondamentale un po' complesso da dire con due parole anche perché non ho tutto questo tempo stasera magari farò una live dedicata a questo però quello che volevo dire noi non sperimentiamo l'universo lo co-creiamo ne siamo dei co-creatori quindi tutto ciò che viviamo è perché l'attraiamo allora ci sono esperimenti che puoi andare a vedere quindi questi scientifici diciamo così chiamiamoli così di fisica quantistica sull'interferenza elettronica ad esempio che sono strabilianti cioè tanto per far capire come funziona la cosa con un esperimento scientifico come giustamente mi sta dicendo Roby scientifico sempre nel contesto della quantistica allora l'esperimento dell'interferenza elettronica è quello delle diciamo delle due doppia fenditura con la lastra dietro che va a intercettare gli elettroni l'elettrone se tu non vai a misurarlo a controllarlo a fare la misura prima che entri si comporta come un interferente come fosse un'onda elettromagnetica un'onda immagini un'onda e dietro nella lastra visualizzi le interferenze che è all'oscuro delle interferenze come se fosse un fascio di luce c'è un'onda di luce il fotone se tu lo vai a controllare prima che entra si comporta come se fosse una diciamo si comporta come se fosse una particella e quindi è come una particella che entra dentro un foro c'è un foro entra dentro una particella c'è un altro foro entra dentro l'altra particella quindi e in mezzo non entrano le particelle quindi come la biglia che entra dentro qualcosa ok e dice vabbè e questa è una caratteristica della materia ma la cosa più strabiliante è che questo capita anche se tu vuoi misurare l'elettrone non prima che entra nel foro ma dopo che è già entrato nel foro prima che arrivi sulla lastra se tu vuoi fare la misurazione lì è come se lui capisse che tu l'hai misurato prima si sarebbe comportato come particella alla fine anche all'ultimo si comporta come un elettromagnetico come se ritornasse indietro e uscisse quindi come se ci fosse una trasposizione temporale diventa onda anche se lo misuri non prima che entra ma quando è già entrato e quindi è come se avvenisse una trasformazione quindi è come se si modificasse sostanzialmente lo spazio-tempo di fatto ecco questo mi fa capire come una cosa interessante come quindi la realtà è molto plasmabile è molto malleabile è molto se hai fatto ingegneria io il classico mi sto cercando di spiegare le cose senza diciamo concetti poi estremamente matematici però è per dire è come è già strabiliante il fatto che un qualcosa a seconda di come tu lo osservi si comporti in un modo piuttosto che in un altro ma è ancora più strabiliante il fatto della plasmabilità della materia perché lui era già passato dentro tu era già passato dentro come fosse un'onda ma se tu lo osservi dopo diventa una particella è come se dovesse ritornare indietro come se ci fosse una regressione temporale ecco quindi per dire che la realtà che noi percepiamo è veramente molto plasmabile molto più plasmabile di quanto noi pensiamo molto più plasmabile di quanto noi pensiamo e e questa plasmabilità i rossi in osservatorio come in giapponese dell'acqua ah beh sì quello adesso il micronome dei cristalli dell'acqua nel momento in cui tu mandi messaggi positivi i cristalli dell'acqua si organizzano in modo ordinato se mandi messaggi negativi messaggi di odio di veneno mentali i cristalli dell'acqua sono tutti disorganizzati questo è un altro concetto molto interessante sulla plasmabilità della realtà l'esempio è calzante quindi come dire la nostra realtà è molto condizionata dal nostro pensiero ecco questo quindi attraere mentalmente a distanza è possibile perché la realtà la condizioniamo già col nostro pensiero non è che è un qualcosa di strano è un qualcosa che noi facciamo quotidianamente perché funziona così la realtà secondo la quantistica funziona così soltanto che non ne siamo consapevoli e quindi accade in modo inconsapevole un po' come dire tu ti fai il nodo della chiavatta e non sai come te lo io mi faccio una chiavatta senza rendermi conto di come ma lo faccio se dovessi mettermi lì a spiegare come faccio magari non ci riesco quindi l'audio è basso e non lo so un giorno è basso un giorno è alto un giorno è duro un giorno è lungo un giorno è corto un giorno è mollo qui cambiano sempre e stavo dicendo adesso attrai con l'intenzione attrai attrarre cosa vuol dire creare le condizioni affinché tu possa sperimentare quella configurazione dell'inverso in cui stai con quella persona e la vita è meravigliosa la vita può essere come dire una meraviglia o può essere un inferto un inferno a seconda di aria 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 carangelica ci vogliono ma prima deve partire il pensiero i gesuiti appunto dicevano pensieri parole opere omissioni queste sono le quattro cose per trasformare la realtà il pensiero la parola le opere le omissioni questi sono i gesuiti non erano così cretini diciamo così hanno delle conoscenze esoteriche profonde pure loro no non ci ditemi gas 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 non è un troll no gas gas non è un troll è una tenovella si chiama gas gas ma non è un troll allora che se uno non ci considera dobbiamo smettere di pensarlo per il giusto no dobbiamo smettere di pensarlo con la paura certo se uno non ti considera tu da indifferenza cioè purtroppo attrai ciò che tu provi quindi se tu hai timore perché se tu pensi a una persona lo pensi col timore di perderlo e allora lo perderai e la tua paura è inconsapevole cioè a livello logico lo vuoi ma il tuo pensiero la tua paura è inconsapevole te lo fa perdere per questo distacco del risultato creare distacco è la cosa fondamentale se tu crei distacco attrai perché non sei più condizionata dalla paura dalla negatività questo è il concetto di fondo quindi non è ovvio che non è una questione di ripetibilità il metodo Galileiano qui non funziona ciao Rossella qui noi dobbiamo impostare la situazione in questo modo dobbiamo agire in questo modo utilizzare il pensiero utilizzare il pensiero direzionare il pensiero nella direzione in cui vogliamo andare non è che non deve desiderare non deve avere paura di non avere denaro il desiderio deve essere puro dalla paura se il desiderio è puro e tu credi di poterlo avere ma ci credi profondamente lo avrai perché vai a sperimentare tu quella configurazione di universo in cui tu vivi attrai denaro in cui tu hai del denaro cioè ci sono tante configurazioni diverse quella dove sei un povero disgraziato senza andare in tasca e quella dove sei ricco benestante con tanti soldi per fare un esempio e tu la tua paura o la tua paura o la tua intenzione ti spingerà a viverne una piuttosto che un'altra le condizioni si creeranno si creeranno l'esempio il desiderio puro è un desiderio senza paura il desiderio è un distacco del risultato quello è il desiderio puro io desidero ma sono distaccato del risultato questo è l'essenza del desiderio puro e questa è un po' l'essenza di come attrarre una persona nella tua vita e la risposta che dovevo dare a Molly che mi segue qua su YouTube bene ragazzi io questa è una breve live spero di riuscirne a fare ancora un'altra stasera non ho molto tempo eh sì il distacco emotivo il distacco emotivo è robbie fondamentale fondamentale un abbraccio e iscrivetevi al canale mi raccomando vedo solo 21 mi piace sì live dopo penso di farla sì non so ancora se subito un po' dopo però penso di farla dopo cena diciamo e Sarina Saretta chiamami stasera non so a chi si rivolge penso non a me ma a qualcuno che la chiami stasera ci vediamo ci vediamo da qualche parte da qualche parte voi non so dove sarete io sarò qua comunque più tardi ciao a tutti e iscrivetevi al canale mi raccomando Cristiana Gori ah risponderò anche al tuo video devo rispettare devo ma se riesco stasera dai non in sogno Max ci vediamo in sogno in sogno raggiungerò Angelica questa notte passeremo una notte di fuoco nel sogno ciao a tutti ci vediamo dopo ciao